Rafforzare l'impegno socio-educativo di campus estivi, oratori, centri ricreativi per tornare a stare insieme, condividere e creare coesione tra i ragazzi. È l'obiettivo del bando speciale promosso dalla Fondazione Pro Valtellina che mette in campo 100.000 euro interamente dedicati all'estate 2022 di bambini e adolescenti per riattivare la voglia di stare insieme, di svago e di libertà. Il bando, aperto fino al 16 maggio, privilegerà le iniziative capaci di allargare l'offerta per campus, centri e oratori estivi, contrastare la povertà educativa e aumentare le opportunità culturali, realizzare proposte e attività ludico-ricreative, educative e aggregative rivolte a minori, anziani e disabili nei comuni del territorio, creare occasioni di coesione sociale. Particolare sensibilità sarà riservata alle iniziative a sostegno economico delle famiglie e priorità sarà data ai progetti in grado di aggregare comuni, enti associativi, oratori, incentivare le opportunità occupazionali, le esperienze formative, promuovendo tirocini lavorativi ed esperienze di lavoro per giovani e soggetti fragili. I giovani sono la categoria che ha maggiormente sofferto gli ultimi due anni di pandemia, commenta il presidente di Pro Valtellina, Marco Dell'Acqua. Abbiamo visto le conseguenze dell'isolamento provocato dalla didattica a distanza, l'aumento del disagio e delle devianze tra gli adolescenti, l'insofferenza diffusa. Il bando Estate 2022 lancia un messaggio positivo e ottimista per riattivare la voglia di stare insieme, creare amicizie e divertirsi. Allo stesso tempo, prosegue Dell'Acqua, Fondazione Pro Valtellina desidera aiutare le famiglie dopo la chiusura della scuola, creando uno spazio dove i ragazzi possano continuare il loro percorso di crescita e annullare le distanze. Il valore sociale, rivestito da oratori e centri estivi, emerge oggi con più enfasi nel difficile contesto storico come quello che viviamo. L'aggregazione, lo stare insieme in modo costruttivo e il rispetto degli altri senza pregiudizi contribuiscono senza alcun dubbio a educare le nuove generazioni, trasmettendo i valori etici che hanno costituito un riferimento per generazioni. I progetti potranno valorizzare le attività e i servizi mirati per accogliere ragazzi in difficoltà, leggendone in profondità i contesti familiari e perciò creando momenti di confronto tra famiglie, insegnanti ed educatori.